Oltre 4.000 famiglie italiane hanno sorriso in questi ultimi tempi grazie al prestito della Speranza, un programma di finanziamenti a tasso agevolato della conferenza episcopale italiana per famiglie, giovani coppie, piccole imprese, persone in difficoltà, destinato a chi non può essere aiutato dalle banche. Un numero consistente, considerato che un italiano su 10 è in povertà, secondo l'Istat. Le prospettive sono quelle di andare verso le famiglie o le piccole attività che rischiano l'immoverimento data la crisi strutturale che stiamo vivendo. Il finanziamento realizzato attraverso la Caritas italiana conta su un fondo di 30 milioni di euro che grazie al moltiplicatore applicato da Banca Intesa all'istituto di credito che supporta l'iniziativa può arrivare a 120. Nello scorso triennio sono state presentate oltre 8.000 domande di cui la metà, 4.271, sono state erogate per oltre 27 milioni di euro. Le novità del prestito della speranza è che il tasso di riferimento sarà molto più basso del precedente, si parla di una percentuale tra il 2,50 e il 2,60 per cento per i privati e del 4,50 per cento per le piccole imprese. Il prestito della speranza che potrà essere chiesto nelle Caritas diocesane o in tante associazioni collegate ha anche aiutato finora tante microimprese nascenti, vere proprie start-up e punta a sostenerne ancora di più nei prossimi anni. Nella seconda parte del prestito si è aperta la possibilità di finanziare imprese, microimprese particolari e questo ha raggiunto circa il 5 per cento delle fonti finanziabili per circa 253 imprese finanziate.